Da un valore effettivo di 20 centesimi riuscivano a trasformare le marche da bollo in tagliandi da 16 euro e quanto hanno scoperto e denunciato gli addetti dell'ufficio protocollo del comune di Sabri alla locale tenenza della Guardia di Finanza. In due giorni di accertamenti, secondo quanto riferito dal sindaco Giuseppe del Medico attraverso una nota alla stampa, sono state scoperte decine di contraffazioni. In particolare è stato accertato che i valori bollati manomessi erano stati apposti sulle istanze presentate a Palazzo di Città da parte di alcuni operatori commerciali provenienti dal napoletano per chiedere l'assegnazione di aree pubbliche in occasione di sagre, fiere e mercatini allestiti durante le feste patronali. I controlli sui numeri seriali delle marche da bollo sospette hanno permesso di appurare, in numerosi casi, che i bolli utilizzati dai venditori ambulanti erano di importo superiore rispetto a quello reale, essendone stati illegalmente alterati i valori nominali. Constatato l'intento truffaldino e il danno che ciò ha provocato all'erario, i fascicoli sono stati trasferiti dalla residenza municipale all'attenzione degli uomini della comandante Fanelli. Ai militari delle Fiamme Gialle toccherà chiarire tutti gli aspetti della vicenda.